Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo video ti spiego come glitchare in questa struttura per prendere l'oro in solo ovviamente non è tanto facile però questo trucchetto funziona ancora è un trucchetto vecchissimo però dopo la pace e dopo tanti aggiornamenti oggi è il 16 agosto e funziona ancora venire qua con un fucile a pompa silenziato colpire l'erba e il resto dei colpi colpirà questo marmo ok una volta che si è spostato di qualche millimetro possiamo spostarlo noi ok facciamolo cadere cerco di posizionarmi perfettamente perché adesso devo metterlo vicino a quella parete quindi cercate di mirare piano piano e lo avvicinate a questa parete una volta fatto non dovete correre quindi in questo caso mettetevi in prima persona piano piano finché il marmo non rimane in piedi quindi dritto dopo tanti tentativi alla fine ci sono riuscito quindi cerco di spostarlo un po più la puoi farlo su qualsiasi piattaforma basta che dopo averlo messo dritto basta che segui questo passaggio ok ora è dritto quindi ora contemporaneamente vi avvicinate saltate premete il tasto d se state sulla vostra se state sul pc quindi in questo caso tu vai avanti salti e ti giri velocemente a destra ok tutto in prima persona un glitch abbastanza vecchio però funziona ancora veramente ottimo io mi sono fatto 600 mila solo qua dentro quindi grazie a tutti per questa visione lasciate like se il video vi è stato utilissimo iscrivetevi attivate la campanellina per i prossimi tutorial noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao